Fuori programma per... Attenzione, che succede? Ciao, 15 secolo, o cazzo, è la vostra grande festa. Il vostro salato è qui, è qui, per una grande lezione che sarà dell'arte. Visto che fra il pubblico c'è un coglione testa di cazzo che di altro non ha mai capito un cazzo. Ecco l'arte, il volto dell'arte. L'opera d'arte e bobbia più invidiata al mondo. Charlie Redd. Testa di cazzo con quei capelli bianchi di merda! Sei un grandissimo fallito! Nessuno ti conosce fuori dall'Italia! Scorpio di merda! Tu questa non ce l'avrai mai in 70 anni, in 80 anni! Fottiti, fottiti, fottiti! Coglione di merda! Di bambino di preismo, di bacialli re! Questo è il volto dell'arte! Stoppa, 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 stoppa. Scusate per questo fuori onda, non era previsto. Ma chi era quello? Non so se lo conosce... Ringraziamo Marco Merrino, Dario Moccia e Vittorio Sgarbi!